Musica Ancora ben ritrovati con Milano Pavia News, edizione Pavia, vediamo i principali fatti di questa giornata. Musica Le scuole elementari di Mortara e le lezioni di ginnastica si svolgono solo una volta ogni due settimane. A causa delle sanificazioni per il Covid mancano gli spazi necessari. La Certosa è partito l'ultimo step dei lavori di efficientamento energetico degli edifici pubblici della città. Dopo le scuole e gli ambulatori, anche il municipio verrà riqualificato. Musica I volontari di Voghera oltrepo solidale sono scelte da un'altra parte dei veleni, ci ha della vergogna come sono state ribattezzate quelle che riguardano l'amministrazione di Voghera e che vengono pubblicate sui social network con continui aggiornamenti a finire in mezzo alla polemica. Ieri, come avete sentito dai nostri telegiornali, anche i City Angels nelle scorse ore, nella serata di ieri al loro fianco, si sono schierati i volontari della città. Vediamo. I volontari di Voghera oltrepo solidale sono scesi in strada per distribuire viveri, indumenti e materiale per l'igiene personale al fianco dei City Angels, al centro come noto di alcune pesanti esternazioni di assessori del comune di Voghera emerse dall'ormai nota chat dei veleni. Nonostante la collaborazione fra le due realtà sia ormai consolidata da tempo, è solo dopo le ultime vicende che per esprimere solidarietà e vicinanza al loro lavoro, gli operatori di Voss hanno deciso di formalizzare il loro supporto e così ogni primo mercoledì del mese le due associazioni batteranno fianco a fianco le aree più difficili della città, come quella della stazione ferroviaria, per aiutare i senza tetto. Abbiamo raggiunto Michela Montagnoli, presidente di Voghera oltrepo solidale. Nella serata di mercoledì avete supportato i City Angels, l'associazione di Voghera, di cui si sta parlando in questi giorni, che da tempo, ormai da quasi due anni, si occupa di offrire supporto a diverse persone in difficoltà. Questa collaborazione è nata per ringraziarli, per supportarli e per ricambiare, ripeto, solo all'1% di tutto quello che loro hanno fatto per noi e continuano a fare. Loro sono preparatissimi, hanno regole molto rigide, quindi noi diciamo che siamo un po' un corollario. Loro sono più sulle strade, voi siete più a contatto con le famiglie, diciamo così, regolari, che però sono in difficoltà. Insomma vi compensate un po' e tra l'altro voi come Voghera oltrepo solidale proprio a breve avvierete anche nuove succursali, se posso chiamarle così. Sia dalla Valle Staffora, sia dalla parte che va da Casteggio fino a Broni, abbiamo avuto innanzitutto disponibilità di volontari, residenti appunto nei suddetti luoghi, a dare una mano al territorio. E dall'altra parte il nostro centralino unico ha ricevuto diverse, e sta ricevendo tuttora diverse chiamate di aiuto. Le situazioni di disagio non riguardano, come a volte ultimamente sembra di capire, di leggere spesso, soltanto Voghera. Insomma sono situazioni diffuse e purtroppo torno a dire che hanno bisogno di essere incontrate. Assolutamente sì, ripeto le richieste poi sono le più svariate, poiché ad esempio noi abbiamo istituito una specie di piccolo gruppo che si occupa esclusivamente di burocrazia. La cronaca adesso con il caso del piccolo Eitan, gli ultimi aggiornamenti. I legali di Shmuel Peleg, il nonno materno appunto del bambino, presenteranno la prossima settimana ricorso contro la sentenza della giudice del Tribunale e della famiglia di Tel Aviv, che ha riconosciuto le ragioni di Aya Biranirco, la zia del piccolo, in base alla convenzione dell'Aya sulla sottrazione dei minori. L'ha detto l'avvocato dei Peleg in un'intervista ad una radio israeliana. Il ricorso ha spiegato, dovrebbe essere presentato la settimana prossima perché i tempi sono stretti secondo appunto la convenzione dell'Aya. L'avvocato ha poi criticato il dibattimento in quanto si riporta il virgolettato, si è concentrato solo sulla questione se Eitan sia stato prelevato in maniera illegittima appunto dal nonno, ma non si è discusso del bene del bambino. Questi anche gli ultimi aggiornamenti sul caso Eitan. A Pavia per la politica, i temi amministrativi, torniamo a parlare della bonifica della ex Necchi perché nelle scorse ore c'è stato un primo confronto tra il sindaco Fracassi e il sindacato di polizia, un incontro per il momento interlocutorio. C'è stato un primo incontro tra il sindacato di polizia COISP e il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi sul tema della bonifica alla ex Necchi, un argomento spinoso che si trascina da tempo e per il quale il segretario del COISP, Marco Zampetti, ha chiesto una risposta chiara alle istituzioni. Nella falda quifera sotto i terreni di Viale Repubblica è stato riscontrato infatti un alto livello di inquinanti, in particolar modo di tetracloro etilene, un composto pericoloso per l'ambiente e per la salute delle persone. L'incontro di oggi è stato un primo passo per delineare gli interventi necessari anche se non sono mancati momenti di tensione tra le parti. Il superamento di alcune soglie di inquinanti nell'area dell'ex Necchi fu rilevato per la prima volta nel 2016 a seguito di un controllo da parte dei tecnici della provincia. Piazza Italia emise poi un'ordinanza per imporre a partecipazioni italiane la società ai tempi proprietaria dell'area, l'obbligo della bonifica. La società erede della Necchi si rivolse quindi al TAR, che però diede ragione alla provincia, e in seguito al Consiglio di Stato, che non si è ancora pronunciato sulla vicenda. Nel frattempo i terreni sono stati acquistati dalla PV01RE, società che ha intenzione di riqualificare l'area, con un ambizioso progetto di rigenerazione urbana. Quello della bonifica della falda resta però un problema aperto e che va risolto. Proprio seguito di una segnalazione del COISP, il Ministero dell'Ambiente ha scritto alle istituzioni locali e regionali chiedendo informazioni precise riguardo alle procedure che si stanno adottando per arrivare alla bonifica. Ci spostiamo a Mortara per un caso davvero particolare. Alle scuole elementari le lezioni di ginnastica si svolgono solo una volta ogni due settimane. È un problema di spazi a causa della sanificazione delle palestre per il Covid. Sentiamo di cosa si tratta. Alle scuole elementari di Mortara le lezioni di ginnastica si svolgono solo una volta ogni due settimane. Al momento non si può fare diversamente, gli spazi sono insufficienti. Le normative Covid prevedono la sanificazione della palestra ogni volta che una classe la utilizza. Un'operazione che richiede circa un'ora e che rende impossibile uno sfruttamento a orario pieno. Non essendoci altri locali adatti occorre fare i turni. Di conseguenza i bambini svolgono attività motoria una settimana sì e l'altra no. Il caso dopo le lamentere dei genitori è stato portato in consiglio comunale dall'esponente di Fratelli d'Italia Paola Savini. Se si saltassero lezioni di italiano o di matematica si leverebbero voci scandalizzate. Invece si salta la ginnastica e sembra non importare a nessuno, dice. Eppure l'attività motoria per i bambini di quell'età è fondamentale ancora di più dopo un anno passato chiuso in casa. L'assessore all'istruzione Luigi Tarantola ammette il problema e anche l'assenza di soluzioni praticabili. Con il bel tempo si fa attività in cortile, altrimenti si utilizzano spazi comuni della scuola come corridoi per far muovere gli alunni anche se siamo consapevoli che l'attività in palestra è tutt'altra cosa, ha dichiarato. In ulteriore alternativa le maestre portano i bambini a fare delle passeggiate in città abbinandole a lezioni di educazione civica. Il tutto ha concluso l'assessore in attesa che termini l'emergenza sanitaria. Siamo in questa situazione ormai da tempo e temo che i protocolli sanitari per le sanificazioni andranno avanti ancora per parecchio, ha risposto Savini. Il Comune farebbe bene ad attrezzarsi per risolvere il problema trovando nuovi spazi per l'attività motoria dei bambini e delle elementari. A proposito di Covid vediamo anche l'andamento della campagna vaccinale. Ricordiamo nella giornata di ieri il via alla prenotazione della terza dose per gli over 60 anche se è stata una partenza rilento con circa 27 mila prenotazioni in una giornata. Nelle dosi somministrate nel frattempo nella giornata di ieri sono state poco più di 30 mila. Sui contagi vediamo come il dato di Pavia, della provincia di Pavia, sia leggermente più alto del dato complessivo Lombardo. 28 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. Lo ricordiamo un dato calcolato sempre su una base settimanale. A proposito di temi sanitari, dobbiamo registrare in provincia diverse persone intossicate a causa dei funghi velenosi. Questi due sono stati ricoverati in gravi condizioni. Sei persone finiti in ospedale tra cui due con sintomi gravi dopo aver mangiato funghi velenosi e il bilancio parziale delle intossicazioni micologiche in provincia di Pavia in base ai dati forniti da ATS nelle scorse ore. Dati non molto diversi da quelli del 2020 quando a fine anno si sono contati 11 intossicati ma in parte più gravi dato che dei sei intossicati registrati finora Due, come detto, sono tuttora in ospedale in osservazione dopo l'ingestione di Amanita falloides una tra le specie più note come velenose mortali ma che nonostante ciò continuano a causare decessi o nel migliore dei casi danni irreversibili a chi li consuma. Il consiglio degli esperti è sempre lo stesso. Fate controllare il raccolto nei centri micologici delle ATS presenti in provincia a Pavia, Voghere e Vigevano. È un procedimento gratuito e si possono evitare bruttissime sorprese. Basti dire che dei 53 fungaioli che hanno presentato il proprio raccolto ai micologi dell'ATS fra settembre e ottobre, 44 avevano nel cestino funghi da buttare perché ritenuti mal conservati, tossici o addirittura velenosi. Purtroppo non sono ancora terminati i casi di intossicazione di funghi molto gravi come ad esempio il Amanita falloide per cui tutte le volte che è possibile noi ribadiamo il consiglio andato presso i nostri centri micologici sul sito dell'ATS di Pavia sono consultabili gli indirizzi e gli orari e i numeri di telefono per poter prendere appuntamento. In caso di sospetta intossicazione o peggio avvelenamento spiega ATS si attiva un protocollo che serve ad identificare le caratteristiche del fungo ingerito dal malcapitato ma trattandosi spesso di avanzi già cucinati o peggio di reperti di cibo già ingerito per le verifiche l'agenzia si avvale del centro antiveleni di Pavia o del laboratorio di prevenzione di ATS di Milano per la ricerca microscopica. Nella maggior parte dei casi, spiegano ancora gli esperti, si tratta di semplici intossicazioni dovute al consumo di funghi mal conservati o non preparati correttamente con conseguenze non gravi ma è necessario comunque prestare la massima attenzione come spiegano anche i gruppi micologici attivi sul territorio. Io dati recenti non le conosco però alcuni dati dell'anno scorso sono maggiormente intossicazioni dovuto ai funghi ancora commestibili ad esempio il chiodino che è consumato soprattutto nella nostra zona e nel pavese e il clitogici benebularis che è un fungo tipicamente autunnali che hanno sicuramente dei componenti tossici a loro interni sono termolabili, vanno queste sostanze tossiche vanno espulse tramite una lunga bollitura e a volte per non curanza magari la bollitura non è sufficiente e questi funghi possono far male. Cambiamo decisamente argomento parliamo del delicato rapporto tra i giovani e l'utilizzo di internet e in particolare dei social network nelle scorse ore la polizia ha tenuto una lezione di studenti delle scuole medie a San Nazaro. È bastato un sondaggio per alzata di mano per capire che anche in una piccola realtà come le scuole medie di San Nazaro i problemi legati all'utilizzo di internet tra i giovanissimi siano ben presenti tra gli studenti radunati al teatro Soms per assistere a una lezione tenuta dalla polizia di Stato la maggior parte utilizza un qualche social network a cominciare da Whatsapp anche se nessuno ha l'età minima dei 14 anni prevista dalla legge ancora più delicata la questione relativa ai videogiochi molti ammettono di avere in casa prodotti vietati ai minorenni e una discreta percentuale rivela di giocare fino a tardanotte Quanti di voi in estate giocano per alzata di mano quindi quanti di voi in estate giocano anche di notte? I pericoli del mondo digitale insomma continuano a evolversi i ragazzi vanno messi in guardia non soltanto dai brutti incontri o dal bullismo ma anche ad aspetti che fino a poco tempo fa riguardavano soprattutto gli adulti tutto ciò che si fa in rete diventa incancellabile ogni elemento pubblicato può essere utilizzato per recuperare informazioni sull'utente e orientare le offerte pubblicitarie foto, video e riflessioni rimanendo nel web possono condizionare la reputazione di chi ne è protagonista per sempre la polizia cerca di rendere consapevoli di questo meccanismo anche gli adolescenti senza spaventare ma invitando piuttosto ad agire nella rete in maniera riflessiva e non d'impulso e tutto il mondo guarda voi e ciò che dite da quella finestra è incancellabile rimarrà lì per sempre ecco perché l'attenzione è fondamentale nell'utilizzo di internet abbiamo vissuto degli anni chiusi in casa dove internet è stato poi quasi l'unico strumento di comunicazione e in effetti non a caso sono aumentati i reati informatici e sono diminuiti i reati tradizionali per questo è importante che venga spiegato quello che è l'utilizzo consapevole della rete e che si spieghi già ai bambini che hanno tutti fin da piccoli un computer o un telefonino con cui comunicare quali sono i pericoli dell'essere connessi la questura di pavia vuole essere vicino alla gente soprattutto ai ragazzi delle scuole per portare un messaggio di rassicurante sicurezza e di fiducia verso le istituzioni in particolare alla polizia di stato questo percorso per insegnare la legalità rispetto delle regole già nel mondo della scuola veramente è di grande interesse per la prefettura che intende sviluppare con tutti gli attori istituzionali una serie di iniziative non solo su questo aspetto del cyberbullismo ma anche tutta una serie di problematiche di temi molto importanti torniamo a pavia con le nostre notizie ricorderete tra le misure messe in campo dal comune per favorire la ripartenza dopo il lockdown di bar e ristoranti la possibilità di sistemare de or gratuiti all'esterno dei locali adesso però si va verso una riduzione dei posti i locali di pavia dovranno prepararsi a salutare i de or non tutti certo ma almeno quegli spazi in più concessi per far ripartire l'economia dopo i danni causati dai lockdown la giunta aveva recentemente prorogato fino al 31 dicembre la possibilità da parte di commercianti ed esercenti di occupare gratuitamente solo pubblico con tavoli e sedie una decisione che aveva però scatenato le proteste di alcuni residenti del centro che si erano visti cancellare diversi posti auto e che avevano impugnato le delibere davanti al tar nel corso di un incontro al Mezzabarba il sindaco fracassi ha spiegato ai commercianti che ci sarà un graduale ritorno alla normalità pre-covid improntato ad un'analisi che sarà svolta caso per caso dove non ci saranno criticità potranno essere mantenuti de or ma se dovessero sorgere problemi di viabilità bisognerà tornare alla situazione pre-pandemia la riduzione dei plateatici sarà comunque necessaria in vista delle installazioni natalizie in piazza della Vittoria come la pista del ghiaccio che dovrebbero comunque garantire un ritorno economico ai bar del centro per quanto riguarda invece gli orari di apertura e chiusura dei locali e quelli di somministrazione delle bevande alcoliche l'amministrazione intende mantenere il regolamento attuale che prevede la chiusura dei bar all'una di notte durante la settimana e alle due il venerdì e sabato la sola modifica riguarda la concessione di un'ora in più di apertura ai locali per il 31 ottobre e il 7 dicembre che sono dei prefestivi tra circa un mese l'amministrazione fisserà un nuovo incontro con i commercianti per discutere della fase successiva al 31 dicembre 2021 che segna ad oggi il termine legale dell'emergenza covid-19 da quella data chi vorrà i de or dovrà infatti pagare l'occupazione del suolo pubblico Sartirana adesso per la vicenda relativa alla casa di riposo è intervenuto il sindaco Ghiselli citato dai sindacati nel corso di una manifestazione davanti al comune si è reso necessario assumere decisioni importanti e in parte senza precedenti il sindaco di Sartirana Pietro Ghiselli tirato in ballo nel corso della manifestazione dei sindacati davanti al municipio di due settimane fa interviene in prima persona con un comunicato in merito all'avvertenza della casa di riposo ad Elina Nigra tre pagine di racconto in cui si precisa che la fondazione proprietaria della RSA aveva difficoltà di bilancio già dal 2018 un anno prima dell'insediamento della nuova amministrazione comunale e del nuovo CDA i conti avevano chiuso in negativo per 200.000 euro nel 2018 per poco più di 100.000 euro nel 2019 disavanzo in parte colmato da un lascito mentre nel 2020, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia le perdite si sono ridotte a 4.000 euro secondo il sindaco Ghiselli il malumore tra i dipendenti era iniziato quando la fondazione aveva cambiato i turni passando da due giorni consecutivi di riposo a uno una mossa si legge nel comunicato adottata sul modello di altre strutture per evitare di assumere nuovo personale per cui non si sarebbero potuti sostenere i costi ad agosto in un incontro che il sindaco ha avuto con il CDA della fondazione i responsabili del personale e i sindacati era stata fatta richiesta di una persona in più per i turni della mattina e del pomeriggio una richiesta a cui è stato risposto introducendo un turno spezzato per un'operatrice 3 ore alla mattina più 3-4 ore al pomeriggio a rotazione per una volta al mese l'inadeguatezza del turno spezzato è stato oggetto di forti rivendicazioni sindacali ma ancora di più lo è stata la decisione successiva di esternalizzare il nucleo alzheimer secondo il sindaco è un modo per alleggerire i dipendenti dal lavoro nel reparto più problematico mentre secondo i sindacati è il primo passo verso un affidamento dei servizi alle cooperative Ghiselli stigmatizza sia il comportamento dei sindacati accusati di fomentare i lavoratori sia i dipendenti a cui si rimprovera l'aver disertato le riunioni convocate per discutere dei problemi il sindaco si dice disponibile a un confronto costruttivo e mirato a trovare soluzioni vere non sterili pretesti per rimandare ogni decisione e aumentare i malumori confermando il sostegno all'operato del CDA e del presidente della fondazione A Certosa invece si punta al risparmio energetico dopo le scuole e gli ambulatori medici alla volta del municipio A Certosa di Pavia è partito l'ultimo step dei lavori di efficientamento energetico degli edifici pubblici della città dopo le scuole e gli ambulatori medici anche il municipio verrà riqualificato permettendo di abbattere i consumi quasi del 100% un intervento a costo zero per l'amministrazione che permetterà anche di ridurre la quantità di CO2 immessa nell'aria Sì, l'ultimo step siamo arrivati al comune l'edificio comunale, quindi il nostro municipio sarà il primo in Italia con riqualificazione energetica quasi al 100% con la cosiddetta tecnologia Enzeb peraltro qui è un prototipo abbastanza particolare per cui ci saranno dei tubicini che passano appunto come intercapedine con il cappotto e permetteranno di avere una temperatura costante dell'edificio per tutto l'acqua peraltro ricordo che questo è l'ultimo edificio di altri interventi che abbiamo già fatto diciamo che le operazioni di project financing ricordo di 1.800.000 euro tutto a carico del privato sono quasi diciamo in via d'arrivo e appunto con questo completamento metteremo nelle condizioni il nostro paese di avere addirittura un risparmio di 350 tonnellate di CO2 emesse all'anno quindi insomma davvero un intervento che vede non solo la riqualificazione bellissima di nuovi edifici ma che consente anche la possibilità di poter avere davvero quelle politiche ambientali vere cioè quelle che permettono appunto di togliere emissioni di CO2 nell'ambiente diciamo che entro Natale dovrebbe essere completato ecco mi tengo un attimino largo perché si sa che i lavori con i lavori insomma i cronoprogrammi non vengono mai rispettati alla virgola anche perché tempo permettendo però devo dire che insomma si sta lavorando alla cremente e sono convinto che potremo inaugurare prima di Natale come detto quelli sul comune sono gli ultimi lavori di un piano di efficientamento energetico più ampio che ha già toccato le scuole e gli ambulatori medici l'obiettivo era rendere gli edifici pubblici di Certosa all'avanguardia spiega il sindaco in Furna in un'ottica di rispetto dell'ambiente senza gravare sui bilanci dell'amministrazione comunale e soprattutto le scuole che erano già arrivate a compimento da tempo così come anche tutti gli altri edifici è una grossa soddisfazione diciamo che la transizione ecologica noi qui a Certosa l'abbiamo un po' anticipata lo dico anche con molto orgoglio perché vuol dire avere una visione lunga e che è partita già diversi anni fa speriamo appunto che le risorse il PNRR che arriveranno ci metteranno nelle condizioni davvero di poter mettere a terra come si suol dire in questo momento tutta una serie di investimenti che comunque serviranno ancora alla città sebbene ne abbiamo già diprogrammati tantissimi e quindi insomma Certosa cambierà in meglio rendendosi un luogo ancora più bello ancora più funzionale ancora più utile ai cittadini e soprattutto ai nostri giovani e ai nostri anziani Non ci sono altre notizie in chiusura vi ricordo l'appuntamento con Politica la parola e il direttore Stefano Calvi Grazie a tutti Grazie a tutti